È tempo di vacanze! Sì, e da Tanghetti Sarotti è tempo di saldi d'estate! Divanno letto Zanzibar a soli 730 euro. Divanno billi con due relax elettrici inclusi in saldo da 2.090 a soli 1.250 euro. Divanno mosse con schienali basculanti a partire da 1.110 euro. Rete elettrica ellisse da 660 in saldo a 360 euro. Tanghetti Sarotti, vi aspetta! Nella sede storica di Cazzago San Martino, uscita a quattro ospitaletto, a Concesio Brescia via Europa, a Bergamo via San Giorgio